Qual è il ruolo di Eurostat per assicurare la qualità dei dati di tutto il sistema statistico europeo? Chiaramente Eurostat ha un ruolo di leadership nel guidare il sistema statistico europeo alla ricerca della qualità. La qualità viene cercata stabilendo quali sono i riferimenti sia giuridici, quindi istituzionali, i riferimenti qualitativi rispetto ai prodotti e i riferimenti qualitativi rispetto ai processi produttivi. Quindi Eurostat deve innanzitutto stabilire le regole, le regole che valgono per tutti i paesi europei, i comuni ai paesi europei, per assicurare che la qualità dei dati prodotti sia la stessa e accettabile a livello europeo. Dopodiché deve anche definire quali sono le metodologie di riferimento per il calcolo delle statistiche, per calcolarle. E inoltre deve anche definire quali sono i criteri per assicurare che i processi produttivi rispondano a questi requisiti di qualità. E inoltre deve anche definire qualità.